Covid, un nuovo decesso nella notte al Cardarelli, ancora un anziano vittima del virus, sale a 167 il numero dei morti, al 7% il rapporto tra nuovi casi e tamponi effettuati, attesa intanto per le decisioni del governo per Natale. Torsi residente a Londra, slitta l'udienza a Larino, ancora un rinvio in tribunale per la vicenda della casa al mare del broker al centro dello scandalo Vaticano, un difetto di notifica causa lo spostamento del processo. L'Albino di Campobasso, sezione della biblioteca di Roma, chiusa da anni la struttura di Campobasso passerà nelle competenze della Capitale, la scelta è del Ministero dei Beni Culturali. I serni all'opposizione ricorre all'autorità anticorruzione, i popolari si rivolgono all'organismo nazionale per verificare appalti e incarichi in città, cresce la tensione tra minoranza e amministrazione. La FGC Molise in campo a gennaio, si torna a giocare a fine mese nei campionati regionali, l'idea è di giocare andate e ritorno per tutta la stagione. Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolise, sempre l'emergenza sanitaria in apertura del nostro telegiornale, c'è la notizia di un ennesimo decesso avvenuto nella notte, si tratta di un anziano che era ricoverato nel reparto di malattie infettive al Cardarelli. Intanto è sotto la media nazionale in Molise, resta sotto la media nazionale nella nostra regione il rapporto tra nuovi tamponi e casi positivi, è ora al 7%, c'è attesa per le decisioni del Governo nazionale sul periodo delle feste di Natale. Sentiamo Giovanni di Tota. Un nuovo decesso nella notte nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Campobasso, un anziano che era ricoverato al Cardarelli, si aggiunge così al triste e lungo elenco delle persone che non hanno sconfitto il Covid. Il numero complessivo dei decessi è arrivato in Molise a 167. Ieri erano state quattro le vittime, delle quali tre persone anziane e un uomo disernia di 45 anni. Resta tuttavia contenuto il rapporto dei casi positivi in relazione al numero dei tamponi effettuati, 37 i nuovi casi su 503 test effettuati che valgono il tasso del 7%. Migliorano leggermente le condizioni del ragazzo di 16 anni di termoli trasferito nel reparto di terapia intensiva, 69 i pazienti guariti riportati nell'ultimo bollettino. Intanto c'è attesa per le decisioni del Governo circa le nuove restrizioni che potrebbero essere decise per le feste di Natale. Le ipotesi sul tavolo sono due. Una quella di considerare tutta Italia arancione, con bar e ristoranti chiusi, limiti negli spostamenti e negozi aperti e coprifuoco anticipato alle 20 o alle 18. Seconda soluzione più drastica, lockdown nei fine settimana a rischio, il primo potrebbe essere il prossimo, in cui si temono esodi fra le regioni, quello del 24 e 25 dicembre, il 31 dicembre e l'Epifania. Una linea questa condivisa dai ministri della Salute e Speranza e delle regioni boccia. Una scelta che Conte dovrà intrecciare con la verifica di Governo, già slittata a venerdì e con le polemiche seguite ai contributi per chi paga con le carte di credito e ottiene i rimborsi, mentre si criticano gli assembramenti e la calca nei negozi che, ovviamente, in questi giorni di festa sono presi d'assalto. E c'è un tema caldo legato a quello dell'emergenza sanitaria e quello dei trasporti. Stamattina, soprattutto in vista del possibile ritorno tra i banchi a gennaio, a Campobasso è arrivata la proposta dei consiglieri del centro-sinistra al sindaco e alla maggioranza 5 Stelle. Una proposta che è stata lanciata dal terminal degli autobus, l'opposizione propone di utilizzare gli autobus dei privati per rinforzare il trasporto scolastico, il servizio. Questo è il terminal degli autobus di Campobasso in piena emergenza Covid, con molte scuole che vanno avanti con la didattica a distanza e tanti lavoratori in smart working, il luogo che solitamente ogni mattina è affollatissimo, si presenta così, praticamente deserto. Ed è qui con gli autobus fermi alle loro spalle che i consiglieri comunali del centro-sinistra hanno voluto lanciare la loro proposta al sindaco e alla maggioranza, quella di utilizzare gli autobus del trasporto privato per aumentare le corse e dunque la disponibilità dei posti per il trasporto scolastico. L'idea è quella di utilizzare i mezzi negli orari di buco quando, dopo aver fatto le corse dai paesi, restano fermi nel piazzale del terminal. Moltiplicare i posti invece di tagliarli per evitare gli assembramenti è in sintesi la proposta illustrata da Giose Trivisono, Alessandra Salvatore e dall'ex sindaco Antonio Battista. Fino ad oggi si è tagliato, si è soltanto ridotto per esempio il numero delle persone che possono salire su un mezzo pubblico. Ora bisogna cominciare, lo si doveva fare già prima veramente, ma insomma si può cominciare, si deve cominciare a moltiplicare i mezzi per mantenere intatta la potenzialità di trasporto delle persone e dei giovani che vanno a scuola. Magari utilizzando altri mezzi, mezzi che magari sono fermi in determinati orari, insomma facendo una e strutturando una organizzazione capace di moltiplicare il numero dei mezzi che girano per la città. Utilizzando i fondi messi a disposizione dal governo per lo scopo, per questi scopi qui, per moltiplicare i vettori di trasporto. Per l'ex primo cittadino il tema della gestione dei trasporti durante l'emergenza meritava un'attenzione particolare e una maggiore collaborazione tra le istituzioni locali. È una grossa collaborazione che occorreva mettere su, la collaborazione fatta dalla disponibilità del governo, Regione Molise che ha precisissime competenze in materia e le amministrazioni comunali, all'amministrazione comunale. Un coordinamento, un lavoro in sistema, di filiera andava fatto. Ora probabilmente è stato anche fatto, ma stati fatto sei che non c'è stato un risultato diverso da quello che oggi noi vediamo in città e che è sotto gli occhi di tutti. La biblioteca Albino sarà inserita nel quadro delle biblioteche statali come sezione della Biblioteca Nazionale di Roma. Ne ha dato notizia alla consigliera regionale Michela Fanelli, la stessa direttrice della biblioteca. Serve ora un'immediata tutela del patrimonio di libri che sono tuttora presenti nella struttura di Campovasso e che va messo in sicurezza. Stesso discorso vale per la messa in sicurezza dell'edificio di Via D'Amato che ospita la biblioteca o in caso contrario individuare una nuova sede. L'agurio ha detto alla Fanelli che il governo, Regione, Provincia e Comune lavorino nella stessa direzione per rilanciare un polo culturale di valore inestimabile per la città, capoluogo e per il Molise intero. Nulla di fatto nel corso della prima udienza a carico di Gianluigi Torsi per la vicenda, ricorderete della casa al mare di Termoli. Per un difetto di notifica gli atti sono tornati alla procura. Il procedimento dunque riparte da zero. Dovremmo ora collegarci in diretta con Larino dove c'è Pasquale Di Bello che ha seguito questa mattina questa vicenda. Pasquale. Sienzo, grazie per la linea. Ci troviamo all'esterno del Tribunale di Larino dove questa mattina si è tenuta la prima udienza a carico di Gianluigi Torsi, il broker molisano, assurdo alle cronache nazionali ed anche internazionali per la vicenda legata all'acquisto di un immobile a Londra che ha visto coinvolto il Vaticano. Parliamo però in questa circostanza di un altro immobile, di una casa al mare, di una villa al mare per la quale si è tanto scritto e discusso. I fatti si riferiscono al 2014. Diciamo subito che però l'inizio del procedimento si è arrestato immediatamente per un difetto di notifica. Il giudice Rosaria Vecchia ha dovuto prendere atto che tutti gli atti del procedimento non sono stati, secondo quella che è stata l'eccezione formulata dall'avvocato della difesa, l'avvocato di Torsi, Fausi, Calif, Iannucci, non sono stati notificati gli atti del procedimento correttamente e quindi dovranno essere rinotificati nuovamente presso la residenza di Londra dell'imputato. Gianluigi Torsi è chiamato a rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di invasione e del reato di diffamazione. Che cosa è accaduto? I fatti si riferiscono al 2014 quando all'allora locataria di un immobile una pertinenza, una porzione di abitazione che stava all'interno della villa al mare acquistata dalla PTS Investment di Gianluigi Torsi, la signora Maria Rosaria Cerio si trova sbarrato. Il cancello di ingresso è precluso l'accesso perché era stato cambiato un cilindretto. Che cosa succede? Si rivolge chiaramente alle forze dell'ordine che arrivano sul luogo e inizia un lungo procedimento che vede contrapposte le parti. All'epoca va ricordato con proprietario dell'immobile era anche l'ex presidente della regione Molise Paolo Di Laura. Frattura che è stato prima coinvolto e poi la sua posizione nel 2018 è stata archiviata dal giudice. Restata in piedi invece la posizione di Gianluigi Torsi. Le parti civili rappresentate dall'avvocato Massimo Romano, nel caso specifico la signora Flora Varanese, e sorella della compianta Iole Varanese che era stata la venditrice in quella circostanza purtroppo deceduta, hanno contestato quella che è stata la ricostruzione fatta dalla difesa dell'imputato ma il giudice ha dovuto comunque accogliere questa eccezione alla quale si era opposta anche il PM nel procedimento Ilaria Toncini. Ma ascoltiamo il contributo che abbiamo realizzato l'intervista con Massimo Romano, avvocato della parte civile. Ascoltiamo. Purtroppo per la seconda volta siamo stati costretti ad uno stop, il processo è stato costretto ad uno stop per ragioni diciamo di notificazioni e di presunta irreperibilità dell'imputato, il tutto però senza che la difesa abbia potuto documentare questa effettiva residenza e soprattutto da quando ci sarebbe stato questo trasferimento da Termoli per l'appunto a Londra. Ne prendiamo atto e attendiamo che la procura della Repubblica di Larino proceda come oggi il giudice ha indicato. Certo ci dispiace perché sono fatti talmente evidenti sui quali si sono pronunciati anche più volte per la verità più magistrati cinque per la verità civili comprovando diciamo i fatti che poi hanno trovato uno sbocco oggi in sede penale però evidentemente non è ancora il momento che un giudice si pronunci sulla rilevanza penale di quegli stessi fatti. Ne prendiamo atto. Ecco questa era la come dire posizione della difesa espressa dall'avvocato Massimo Romano. C'è un altro procedimento collegato a questo che oggi si è aperto qui a Larino. Un altro procedimento per ricettazione perché nell'autunno del 2015 Maria Rosaria Cerio, l'affittuaria, viene reintegrata nel possesso dell'immobile però all'ingresso nella abitazione trova l'appartamento devastato, mancano delle suppellettili, mancano dei mobili che successivamente nel corso delle indagini vengono ritrovate queste cose presso la SACOM, l'azienda allora di proprietà dello stesso Gianluigi Torsi. Per questo è aperto un altro procedimento qui a Larino per ricettazione. Come abbiamo già detto nell'apertura del nostro collegamento il procedimento a questo punto è rinviato sine die e c'è il pericolo comunque come detto dall'avvocato Massimo Romano della prescrizione. Va ricordata poi la galassia dei procedimenti nei quali Gianluigi Torsi è coinvolto. Ricordiamo che oltre a quelli aperti qui a Larino c'è un procedimento a Bari, un altro a Londra, un altro in Vaticano e altri procedimenti a Milano. Enzo se non ci sono domande da studio io ti restituirei la linea. Grazie per il collegamento da Larino, rientriamo in studio e da Larino andiamo a Isernia perché è sempre più aspro il confronto tra minoranza e amministrazione comunale. Dopo la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario ora c'è il ricorso all'autorità nazionale anticorruzione da parte del portavoce dei popolari Gianni Fantozzi che parla di ombre su appalti e incarichi. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. Cresce l'attenzione all'interno del consiglio comunale di Isernia dopo la richiesta di convocazione straordinaria della Sise in presenza all'auditorium firmata da ben 15 consiglieri su 32 arriva un'altra scossa che destabilizza i fragili equilibri di Palazzo San Francesco. La nuova spallata la dà Gianni Fantozzi, portavoce dei popolari che dopo due interrogazioni senza risposta e ripetute richieste cadute nel vuoto ricorre all'autorità nazionale anticorruzione affinché si faccia luce sull'operato dell'amministrazione comunale di Isernia in materia di affidamento degli incarichi professionali attraverso il sistema degli appalti sotto la soglia. L'esponente dei popolari aveva chiesto al sindaco, al segretario e al dirigente dell'area tecnica un'immediata risposta ad un'interrogazione presentata lo scorso 31 dicembre 2018 e acquisita al protocollo lo stesso giorno. Lì, spiega Fantozzi, chiedevo di conoscere i criteri con i quali vengono affidati gli incarichi professionali di qualunque tipo e di rendere noto nel più breve tempo possibile un elenco dettagliato dei professionisti e dei consulenti ai quali sono stati affidati incarichi con i relativi corrispettivi a far data dal 1 settembre 2018. Chiedevo inoltre, continua Fantozzi, se esista un elenco dei professionisti o consulenti e ditte accreditati con il comune. In data 11 settembre 2020 prosegue o provveduto a reiterare la richiesta ad oggi rimasta in evasa nonostante un intervento da parte del prefetto. Questo atteggiamento osserva Fantozzi oltre a contrastare in maniera preoccupante con le norme previste dai regolamenti e dallo statuto e a impedire ai consiglieri comunali di esercitare il sacrosanto diritto di controllo indirizzo mette in evidenza anche una mancanza di rispetto verso la prefettura. Oltretutto, al di là delle norme non rispettate, cosa di per sé gravissima, tale comportamento, conclude, induce anche a pensare ad una non trasparenza delle relative attività. La carona che adesso è una carambola violentissima tra due auto e un'auto articolato nella serata di ieri ha provocato tre feriti nel blocco della strada per alcune ore. L'incidente, vedete queste foto, si è verificato sulla statale 17 vicino al bivio per busso. Le cause sono ancora al baglio dei carabinieri che insieme ad alcune squadre dei vigili del fuoco al 118 sono intervenuti per i rilievi e deviare il traffico su strade secondarie. Una delle auto è andata distrutta ma le condizioni dell'uomo alla guida e delle altre persone coinvolte, benché trasportate al Cardarelli, non desterebbero preoccupazioni. E adesso andiamo a Venafro dove parte per gli utenti di ferrovie dello Stato il servizio di assistenza alle persone disabili o con ridotta mobilità prenotabile attraverso il circuito Sale Blu. I dettagli con Barbara Fino. Viaggiare in treno oggi è un'esperienza più semplice anche per chi ha ridotta mobilità grazie al digitale e a ferrovie dello Stato. Anche a Venafro è stato istituito uno speciale servizio di assistenza prenotabile attraverso il circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana. Le persone con disabilità e ridotta mobilità, anche temporanea, potranno richiedere l'ausilio di operatori che li assisteranno nella fase di salita o discesa dal treno. Il servizio è gratuito e prenotabile con 12 ore di anticipo. Il circuito Sala Blu è costituito da 14 sale realizzate nelle principali stazioni italiane e disponibile in più di 330 scali ferroviari. In questo periodo, a causa dell'emergenza sanitaria, la prenotazione del servizio deve essere richiesta con 24 ore di anticipo. Il servizio, pensato per le persone con disabilità, potrà essere attivato telefonicamente chiamando il numero verde gratuito 800 90 60 60 o in alternativa attraverso il portale Sala Blu online. Registrando i propri dati e le specifiche esigenze di viaggio, è possibile richiedere l'assistenza direttamente dal web. Il gruppo Ferrovie dello Stato, con l'ampliamento del circuito di assistenza delle sale blu, intende essere ancora più vicino alle persone che ogni giorno viaggiano in treno o utilizzano le stazioni, mentre prosegue il programma di interventi di natura strutturale per eliminare le barriere architettoniche e assicurare a tutti i viaggiatori la completa autonomia negli spostamenti. Cambiamo argomento. È stato acceso davanti alla caserma dei carabinieri di Larino, l'albero della cultura e della legalità, una bette naturale alto 3 metri addobbato con gli elaborati degli studenti della città. Un'iniziativa nata dalla collaborazione con le scuole di Larino, a cui hanno preso parte il direttore dell'ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini, il sindaco Pino Puchetti, il comandante provinciale Emanuele Gaeta, il comandante interregionale Abruzzo e Molise, il generale Carlo Cerrina. Su questo evento vediamo il video che ha realizzato la stessa arma dei carabinieri. Anche a Natale insieme con l'arma dei carabinieri per diffondere la stessa arma dei carabinieri più possibile la cultura della legalità, per fare in modo che diventi patrimonio costante e strutturante di tutti i nostri ragazzi. Un evento importante ancora una volta. Penso che questo progetto sia un progetto importantissimo perché collega tutte le istituzioni di una comunità e questo ci fa enormemente piacere come amministrazione comunale. L'arma dei carabinieri persegue e continua il progetto della cultura della legalità e questa sera qui, presso la compagnia carabinieri di Larino, si è acceso questo albero magnifico con tutti i pensieri dei ragazzi delle scuole di Larino. Un ringraziamento particolare a tutte le istituzioni che continuano la lotta contro il crimine e soprattutto per riaffermare la legalità in questa società. La scuola non è solo un luogo fisico, è un insieme di rapporti, di insegnanti, di interazioni. L'arma dei carabinieri è da sempre attenta alla scuola. Abbiamo tante iniziative che facciamo assieme alle scuole di ogni ordine e grado. Una di queste è l'iniziativa della cultura della legalità. La legalità è un qualcosa fatta di piccoli passi che ognuno di noi deve fare. Bene, questo è il servizio realizzato dall'arma dei carabinieri. Adesso cambiamo argomento. Le buone pratiche della scuola molisana approdano sulle pagine di Repubblica che ha destinato un ampio approfondimento al convitto Mario Pagano di Campobasso e ai suoi avatar. Due robot in grado di rappresentare in classe il docente oppure un alunno se questi fosse costretto alla frequenza in isolamento da casa. Il robot infatti può muoversi e interagire attraverso schermo e microfono. I ragazzi da casa possono in remoto far camminare il robot che si trova in aula fargli occupare il proprio posto, seguire le lezioni e anche porre domande sempre tramite l'avatar. Una porta aperta verso il futuro. Potremmo avviare un laboratorio di robotica con i ragazzi in base alla loro reazione ha detto a Repubblica il rettore del Mario Pagano, Rossella Gianfagna. E adesso per la rubrica le parole della medicina. Il dottore Italo Marinelli oggi ci parla della biostatistica ossia della statistica applicata alla medicina. Sentiamo. Buongiorno. Oggi parliamo della biostatistica che non è altro che la statistica applicata alla medicina. La statistica è la scienza che si occupa della misurazione di fenomeni collettivi misurabili quantitativamente. Non è niente di nuovo. Se noi pensiamo al viaggio che fecero Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme per fare il censimento ci rendiamo conto che la statistica veniva praticata dalla più remota antichità. La statistica in realtà è la rappresentazione numerica delle realtà. Abbiamo due tipi essenzialmente di statistica. La statistica descrittiva che appunto fotografa un fenomeno per esempio quanti tamponi sono risultati positivi oggi quante persone sono entrate uscite dalla terapia intensiva e così via. E poi abbiamo la statistica inferenziale che ci consente di verificare la validità di alcune ipotesi o fare delle previsioni. Ad esempio il vaccino anti-covid potrà funzionare potrà essere efficace al 50-80% un certo intervento un certo farmaco potrà essere utile in che misura. È uno strumento essenziale gli stati si sono dotati di istituti di statistica abbiamo in Italia per esempio l'ISTAT ed è una guida molto importante per tante decisioni però ha anche dei limiti innanzitutto ci sono buone e cattive statistiche dipendono molto dalla qualità della raccolta dei dati i dati devono essere veritieri i campioni scelti cioè le persone che si vanno a studiare devono essere rappresentative di una popolazione più ampia soprattutto nella statistica inferenziale e poi ci sono dei limiti i limiti sono il riduzionismo non possiamo pensare di ridurre una realtà complessa e sfaccettata a un semplice numero un altro limite è la spersonalizzazione l'abbiamo detto tante volte dietro i numeri non dobbiamo mai dimenticare che ci sono esseri umani in carne ed ossa e poi c'è la cosa più importante che come tutti gli strumenti la statistica va usata con una qualità con qualcosa che purtroppo si sta un po' perdendo in questi tempi che è il buonsenso si chiama Ciac si impara il progetto finanziato da due ministeri che è partito in quattro scuole di Termoli per promuovere tra gli studenti la cultura della cinematografia all'iniziativa hanno collaborato anche le associazioni del territorio tra queste molise cinema sentiamo Manuela Iorio Istituto Comprensivo Brigida Istituto Difesa Grande Liceo Scientifico e Liceo Artistico sono le quattro scuole di Termoli che hanno partecipato e vinto il bando nazionale del MIUR e del MIBACT Cinema Scuola Lab promosso con lo scopo di educare le nuove generazioni all'opera cinematografica come strumento educativo trasversale all'interno dei percorsi curriculari il progetto che è stato finanziato dai due ministeri si chiama Ciac Simpara ed è stato elaborato dalle scuole in collaborazione con tre associazioni del territorio Apsi Molise l'associazione degli psicologi la consulta per le disabilità del comune di Termoli e Molise Cinema l'intento è quello di formare giovani spettatori consapevoli appassionati della cultura cinematografica e di creare un legame attivo tra scuola e cinema ha spiegato il dirigente della Brigida Francesco Paolo Marra durante la presentazione del progetto in videoconferenza Ciac Simpara si articola in tre moduli ciascuno per ogni ordine di scuola cinema in grembiule per la primaria cinema nello zaino per la secondaria di primo grado e cinevisioni per la secondaria di secondo grado 280 alunni coinvolti per un totale di 13 classi il progetto che entrerà nel vivo non appena sarà possibile tornare in aula prevede un numero di incontri con esperti di cinematografia psicologi ed operatori del sociale nel ruolo di educatori formatori grazie alla partecipazione delle psicologhe di Apsi Molise e degli operatori della consulta gli alunni avranno l'opportunità di riflettere su alcune tematiche di rilevanza sociale attraverso percorsi orientati allo sviluppo delle emotività ogni film sarà preceduto da un'introduzione fatta dagli esperti di Molise Cinema che si occuperanno anche del coordinamento generale della formazione degli insegnanti le attività si concluderanno a maggio con la presentazione dei prodotti realizzati dai ragazzi all'interno dei laboratori la scuola Maria Brigida Istituto Capofila ha destinato parte del finanziamento all'acquisto di attrezzature per la proiezione conservando così l'opportunità nel futuro di garantire la continuità del progetto in un contesto territoriale dove l'offerta cinematografica è poco dedicata ai giovani Bene, con il Cinema Scuola termine il nostro TG delle 14 tra poco ci sono le previsioni del tempo poi come sempre le notizie sportive grazie e buon pomeriggio grazie